Mi chiamo Romano Giovanni, sono di battaglia a Milano, l'ho scelto perché sai Milano è una città, sei giovane e vado a sapere cosa c'avevo in testa, è Milano. Ero del primo scaglione del 1926, la Repubblica di Mussolini l'ha chiamata e io piuttosto che andare con loro ho preferito andare nei partigiani. E siamo partiti da Luceto alla mattina del 17 agosto del 1944 e siamo andati al Garbasso, della ferriera di Montenotte. Eravamo un 5, Tottò, io, Saitone e ancora un altro che non ricordo adesso. La nostra era la brigata, quando sono andato io, brigata, sesta, l'innovizio e poi cambiata. E allora di lì, sai, cominci. E sono andato con gli altri, la sera dormivamo nel bosco, c'era una baracca. Bellino ha preso mio padre e l'ha portato in via Pietro Giulia a Savona, che una volta c'era i carabinieri, dicevano lì, l'ha portato lì. Puoi capire, mia madre è rimasta a casa con 7 figli, 5 maschi e 3 femmine. Allora mia madre è andata dal prefetto municipio, ci ha detto, ma mio figlio è 2-3 mesi che non lo vedo, cosa ne so dov'è, ma perché non si è presentato? Mia madre mi ha detto che c'era Roma, lascerò da San Marco. Bisogna che si presenti. E mia madre dice, ma dove vado a cercarlo? Allora, è andato dal prefetto e ci ha raccontato, io ho altri 7 figli a casa, se non c'è lui cosa c'è da mangiare? Che lavorava nel mulino Savonese, lì mio padre, lì, sai lì il ponte della Consolazione? C'era il mulino, poi c'era l'alfa romeano lì, e beh, lavorava lì. E io ero nella tode, lì ai bruciati, al bisolo marino, poi non sono più andato, e beh, lì quando mi hanno chiamato non sono andato più. Allora il prefetto dopo 5 giorni l'ha fatto uscire, è stato bravo quel prefetto lì, ha sentito che ha tutti quei figli e l'ha lasciato. Ai 16 di novembre del 44 è venuto il rastallamento, ne è venuto prima, ma adesso ti definisco questo. Nel rastallamento, al mattino alle 6, se ne accorgono che là sulla montagna c'era i San Marchi. Allora quello lì che andava a prendere il caffè, non ha fatto nessuna reazione, sai, è andato dalla cucina e ci dice, siamo circondati dai San Marchi. Allora lì era ancora notte e si sono messi tutti da collo e sono scappati, sono scappati giù per andare verso Giusvala. A Casarino, Drin, nome di battaglia, ci viene in mente che ha lasciato il quaderno con tutti i nomi, perché una sera è arrivato la sudizia, c'è bisogno che mi date i dati propri veri, come ti chiami, dove abiti e tutto, perché forse sembra che la guerra stia finendo. È ritornato indietro, come ha preso il quaderno, l'ha cominciato a strappare, è arrivato di San Marchi, voleva sapere il tenente cosa c'era scritto, lui non ha parlato, ci hanno dato due colpi di rivoltarla qua e 17 pugnalate nella schiena, è caduto con la faccia intera, diciamo, ci hanno preso le scarpe, avevo un bel paio di scarpe, mi ricordo, è un fasoletto rosso al colo e la beretta, ci hanno preso quella, l'ha lasciato lì, c'è stata una settimana, io quella mattina lì, con un olio in alto di albisolo marina, portavamo giù le fascine, la legna per fare il pane e c'era una famiglia, da lei da due io, e una brava donna, passevamo di lì, ci diceva se avete fame, se avete bisogno vi fermate, allora siamo arrivati lì, eravamo tutti bagnati, io leggo il cavallo vicino a un albero, vado dentro, mi siedo così, invece di stendermi di qua mi siedo di lì, perché ci diceva quella donna, se arrivate che non c'è nessuno, vi lascio la chiave sopra al trave dell'entrata, entrate e fate quello che c'è da fare, e dentro c'era già un bergamasco che faceva carbone, un vecchio lì, faceva carbone, ci dico, fa freddo eh Bergamo? gli dice si Diocan, Diocan fa freddo morire, e mi siedo, aveva acceso già la stufa, mi siedo lì come te, prendo le calze, me le levo le scalpe, le metto così, per farmi asciugare, poi lì ti vedo due San Marchio di là, dal bosco, ci dico, c'è la Repubblica, mi fa, Diocan scappa, come sono uscito sulla porta, ma aveva già puntato il mitra, il stec, mano in alto, mano in alto, mi prende per il braccio e mi dice dove sono gli altri due, e io non ho parlato, mi ha preso per il braccio e mi ha portato così dietro la casa, che lì c'era il fienile, quella signora lì ci diceva, se volete mettere qualche cosa, la ve lo nascondete, la nel fieno, nessuno tocca niente, sto San Marco sale su, no? Sale su dalla scalinata, e su c'era già Noli là che si legava le scarpe, ci ho detto Noli è finita, sai così parlando, no? E sto San Marco va su, l'altro si è fermato nella cucina, come ho visto che entra dentro, io cosa ho fatto? Mi sono tirato giù, mi sono tirato giù le braghe, e col culo scoperto sono andato lì vicino a un cascinotto che ci mettevano le foglie di secche per mettere sotto le bestie, sai? Quando sono arrivato là, ho visto che non ho ancora riuscito, mi sono buttato giù nelle castagne e giù, sono arrivato sulla strada da carro, c'è il cimitero e mi sono buttato dentro al cimitero, sono stato lì, non so, quarto d'ora, mezz'ora, poi i bellini dico, se mi hanno visto entrare qua, mi prendono subito, data bene che dalla parte sopra al cimitero c'è il muro che ci facevano dei lavori, qualche tomba, non so, sono riuscito a rampinarmi su e scendere giù nel bosco, perché per andare su ci sono stati 300 metri, tutto con la pancia in terra, perché d'inverno così i fogli e non ce n'è più dei castagni. Quando sono arrivato sulla collina, mi è arrivata la rafrica, ho fatto così, a vedere se l'ho presa, non mi hanno preso, mi è caduta la beretta, ce l'ho lasciata. Allora ho fatto ancora 10-20 metri e lì c'era un solco che sarà a basso un metro, era tutto, perché una volta ci veniva l'acqua da Giuswala e veniva alla feriera, però dopo quegli anni sai, non è più servito, era tutto pieno di foglie. Io cosa ho fatto? Mi sono buttato lì dentro, ho messo due rabe che potessi vedere un po' e mi sono messo lì, puoi capire, scalzo, senza, con un paio di pantaloni da ginocchio, ne avevo due paia, uno da ginocchio e l'altro lunghe, l'altro me le ero tolte, perché erano tutte bagnate, me le avevo messe vicine alla stufa e sono stato lì fino alle 4, quando il sole ho visto che andava via, bisogna che prenda una decisione, e ogni tanto sentivo qualche grafica, sai, dicevo, sai ti pensi subito ai tuoi amici e tutto, beh lì, prendo una foglia, dico se viene a un modo, vado al campo, se viene all'altro modo, vado da mia nonna Ancorona, c'era attraversata tutte quelle montagne, le conoscevo io, e vado da mia nonna, sta foglia si gira che vado al campo, e beh lì, decidi, vado al campo, comincio a attraversare tutti quei brichi, arriva in Ascheu, quando arrivo lì, finisce il bosco, c'è una casa lì su da destra, e poi c'è i campi, là c'è altre due case grosse, con degli alberi così sai, madonna, beh lì c'era i tedeschi là, c'era i tedeschi che legavano le corde, da un albero all'altro, sai per legarci i cavalli, allora ho pensato, ho detto qua, non vanno via, ci stanno anche domani, e sono andato indietro, sono andato indietro, ho fatto tutta quella strada lì, con i boschi, ho arrivato a Cian di Buschi, che dice, che sarebbe sulla strada, Ferriere di Montenotte, Ponte Inverea, lì ho attraversato la strada da Carlo, sono sceso giù, a Derritano, ho preso la pinetta di Ponte Inverea, che è così sai, sono tutti pini, e sono arrivato sulla collina, sono andato giù, sono arrivato alla Basia, da mia nonna, e sarebbe stato le 11, mia nonna abitava, una casa sopra Corona, sai, ma di Corona, andare dalla casa mia nonna, ci volevo un'ora, vado lì, i cani non abbaiono, perché ci stava mia nonna di qua, e i suoi nipoti di là, vecchi, sai, erano già, beh lì, i cani non abbaiono, beh lì, come mai? ho visto che c'è il chiaro in cucina, ci ho buzzato un po', ma sono scappato subito, dietro la casa, nel bosco, poi non vedo nessuno, tiro delle pietre, i cani non abbaiono, sto un po' lì, vado di nuovo giù, c'è sempre il chiaro nella cucina di mia nonna, ci batto, e vedo che esce, vedo che esce, esce fuori, ciò, no no, e come mai che se è successo così e così, mi dice, va che soffiava la stufa, perché da le nostre parti, non lo so, quando soffia la stufa dice che arriva qualche duolo, allora mi dice, va che c'è un po' di latte con il focacino, il focacino era roba che mi nesta quella che avanzava, l'impastavo, la mettevano dentro la stufa, seccavano e me la mangiavano, e che dico, da stamattina che non mangio, a me dice, va che ha fatto un letto, no no, ho detto, non fa un letto, per l'amor di Dio, c'è un po' i miei cugini là, e li hanno chiamati, mi hanno portato in Tupanè, in Tupanè è una casa che dietro lì ci vorrà 10 minuti, e là c'è delle tane, sai, c'è delle grotte, sono rimaste, vado a sapere, secoli, c'è delle grotte, e ci dormivano dei partigiani di Corona, ma mi hanno portato là i miei cugini, mi hanno lasciato lì, ma non c'era nessuno, puoi capire, sono arrivato là tutto il giorno scalso, ho camminato, pensavo ai miei amici, tutti belli, e non riuscivo a addormentarmi, mi sono andata bene, che al mattino mi sono addormentato, e mi sono sbagliato, che era le 11, alle 11, mi metto le scarpe, che mi avevano dato i miei parenti, e prendo la coperta, me la metto sulla testa, vado su, c'è un scoglio che sarà, è grosso come qua, guarda, quadrato, ma però c'è tutte le foglie sopra, sai, come si chiama, va bene, vedo che c'è le mucche fuori, dico, ma come vuoi che c'è le mucche, sei così, ci sarà mica la Repubblica, le mucche, so che i miei parenti, quando arrivi qua, a fine settembre, non le lasciano più andare, beh, ma come mai, sono tornato indietro, e sono andato di nuovo, è stata bene, e sta lì, sta lì, non sentivo niente, arriva mia cugina, e ha detto, ma, è andata bene, hai visto le mucche? Sì, ho visto le mucche, perché? Là c'è San Marchio, sono andati via adesso, sono andati fino nelle trabacche, per dire se c'è della gente, penso un po' di, se dormo in casa, o se vado là, mi brincano, vabbè, poi, è, mio parente lì di Corona, è venuto giù avvisato, mia madre, mio padre, è venuto su mia sorella, mio padre, poi mio padre, come è arrivato, subito, mi ha dato le tripe, te l'ho detto, nell'andare nei partigiani, sei te che sei andata a cercarla, e vabbè, come ti lascia per, sai, allora, mia sorella, erano venuti su, in bicicletta, dalbisola, è andata giù, avvisare mia madre, che sono vivo, e io e mio padre, siamo andati giù, a piedi, abbiamo attraversato, tutte con la collina, siamo arrivati giù, dal ponte, San Sobia, abbiamo attraversato, quando arrivo, a un certo punto, dico, andiamo su, e poi prendiamo, da Stella, andiamo, un cento pei, andiamo giù per la collina, andiamo alla pace, e mio padre dice, sarà meglio, che andiamo un po' più in giù, che io quando siamo lì, c'è i San Marchio, che vengono giù, in Finlandiana, fortuna di nuovo lì, che c'erano i contadini lì, che legavano la vigna, le vite, piantavano le carasse nuove, e io cosa ho fatto, sono andato la messa con loro, e mi sono messo lì, a trafficare, a Tabene e San Marchio, sono passati, poi, quando erano fuori, quasi in Corona, che l'abbiamo visto, che erano là sopra, siamo partiti, con mio padre, siamo venuti in Giandope, sta a sentire, anche questo, arriviamo lì, c'è una casa in Giandope, e lì, facendo pezzi, c'erano i tedeschi, con un faro, per fare, per gli apparecchi, sai, quando passavano gli apparecchi, i tedeschi, accendevano quel faro, facevano il chiaro contro l'apparecchio, e gli altri si sparavano, mio padre dice, andiamo là dal pesco, si chiamava pesco, andiamo là, se facciamo da qualche cosa, tanto beviamo un bicchiere, che di questo, sarà meglio che non andiamo, sai, o andiamo, sai come si erano, i nostri padri, quando si è arrivati, a 100 metri dalla casa, sono attaccati a bagliare i cani, facevano, i tedeschi erano lì, con pesco, che bevevano, sai, si sono attaccati a sparare, puoi capire, giù da quelle castagne, e via, vabbè, e siamo arrivati a casa, si è arrivati giù, e 18 di novembre del 44, non ci sono più andati, nei partigiani, stavo lì con i sapisti, lì all'uceto, una sera, c'eravamo io, 6 tonnellino, scasso, o pegua negra, e c'eravamo 5, andiamo lì, e traversiamo il fiume, il fiume c'era, sai che nel fiume, quando c'è l'acqua, quando fa il scalino, ci avevano fatto delle gabbie di pietre, arrivava lì l'acqua, scendeva, e passavi, sai, asciutto, fiammo lì, oh, tana, ci ricontriamo con i san marchi, contiamo con i san marchi, e ci chiamano i documenti, colino, il piccetto, e il pieno della Iè, sono scappati, pensa che c'erano le mine, non è partita nemmeno una mina, Lino Saitone, aveva la giacca fino a qua, con la pistola in tasca, dall'attacco, ci è partito un colpo, ha preso Biffi, che era di Milano, era un san marico, là è caduto, l'altro che c'era insieme, ha sparato, ha preso il figlio, il piede guarda che c'era la marina, l'ha preso in un ginocchio, per lì, io e l'altro, siamo riusciti a scappare, quando eravamo là, da Ferragiare, se sai dov'è, quel Ferragiare, sentivamo gridare, aiuto, 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 per lì, ci dico l'altro, è meglio che andiamo a vedere, quando arriviamo dal muro, la vediamo un po', e non c'era più nessuno, mandati là, sei tonnellino, aveva un colpo qua, ci è uscito dalla schiena, era lì ancora vivo, ma oramai era morto, era l'altro Belin, ci abbiamo legato, ci abbiamo legato, un pezzo di camicia qua, che non perde sangue, l'abbiamo preso in spalla, l'abbiamo portato fino nella Spidea, sopra Grana, proprio l'ultima casa, diamo lassù, il cane baia, esce fuori il padrone, cosa cercate, cosa volete, guardi, c'è uno qua che è rimasto ferito, bisogna che lo sostituisca, o in caso, o nel capanone, come vuole, io non aiuto nessuno, allora quello che ci avevo insieme, io, con la rivoltà, ci ha detto, se non vieni giù, che ci fai qualche cosa, ti sparo, allora è sceso con la moglie, hanno preso una brandina, qualche cosa, delle coperte, l'abbiamo messo nel barracone, ci abbiamo di nuovo legato la coscia qua, che non perde sangue, e poi ci hanno dato il medico Lanfranco, ci abbiamo detto, poi domani viene un dottore, pensare a lui, e di fatto ci è andato, e lui è rimasto vivo, è ancora vivo adesso, poi l'hanno portato giù, sai, ma a casa no, perché, quei tempi là, quando ti chiamavano, poi venivano a cercarti, sempre disarmato, perché beh lì, se ti facevi ben carico armato, guai, anche lassù, a Montenotte, noi garibaldini, avevamo l'ordine di non sparare, perché se ammassavi un San Marco, un tedesco, ammassavano sette contadini, allora niente, invece i baduliani, fatti il conto, che una volta è venuto il rastellamento, la, è su un giudice della Mo, fatti il conto, che i baduliani, hanno messo una mitraglia, la sopra, alla collina, ne hanno fatto una strage di San Marco, una strage, e poi, hanno abbandonato tutti i San Marco, e se ne sono andati, all'indomani sono venuti su, con un camion, li caricavano i suoi colleghi, uno con la testa di qua, l'altro con la testa di là, hanno fatto la camionata, e sono lì, nel cimitero, se sei pratico, altare, c'è un cimitero, che ci sono tedeschi, partigiani, e, e, San Marchi, e lì c'è anche uno, di Albisola Maria, di Albisola Capo, scotto, certo scotto, che lavorava a banca, me lo ricordo io, andavamo nel fiume, lì, con le pecore, andavamo, la città di Masotti, sedevamo là, vedere passare i camion, e questo qua, lo vedevamo sempre, che andava, a lavorare, in bicicletta, scotto, e l'ho trovato nel cimitero, morto là su.